Una mostra che celebra la martire e patrona di Catania, Sant'Agata, affiancando alla già nota iconografia dipinti e ceramiche custoditi nei musei regionali e civici, sculture e fotografie di artisti contemporanei raffiguranti Sant'Agata e la sua fantasmagorica festa. La mostra Agata, dall'icona cristiana al mito contemporaneo, ospitata nelle sale del Museo dei Saperi e della Mirabilia Siciliane del Palazzo Centrale dell'Università di Catania, è stata inaugurata ieri dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Una ventina le opere esposte in un unico contesto narrativo, realizzate tra il XIV e il XXI secolo, che raccontano la vita e la morte di Agata e il suo rapporto con l'umanità. I dipinti e le ceramiche dei musei della regione siciliana, le gallerie di Palazzo Abatellis e di Palazzo Bellomo, i musei Pepoli di Trapani, quello interdisciplinare di Messina e quello della ceramica di Caltagirone, le tele e i lapidei provenienti dal Museo Civico del Castello Ursino, dall'Arcidioci Sietteneo e dalle collezioni dell'Università, insieme ai lavori di artisti contemporanei, fotografie, sculture e installazioni olfattive. La mostra è finanziata dalla regione siciliana attraverso l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana ed è stata ideata e organizzata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, in collaborazione con l'Università, Sistema Museale d'Ateneo e con la Fondazione OL Mediterraneo Antico. La mostra, ha detto il presidente della regione Enello Musumeci, è un omaggio ad Agata, simbolo di fede e coerenza sino all'estremo sacrificio, che con il suo esempio è diventata ispiratrice di pittori, scultori, orafi, scrittori e poeti. L'Ateneo, ha aggiunto il rettore Francesco Priolo, si fa promotore di iniziative ed eventi di assoluto valore, aprendo i propri spazi museali e le proprie strutture per accogliere i turisti e i cittadini, nel contesto della nuova edizione della rassegna di eventi artistici e culturali Porti Aperte Unict 2022. Aperte Unict 2022